il press che prova una rossa il 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 che c'è il bambino! che c'è il bambino! Stai a prendere il bambino, che c'è il bambino! Arrivai lì, oh! Guarda, è qua! Sentilo! Aspetta! Oh, ma sei come lui, eh! Non dovrei prendere, vai in pinta, come fa lui! anche qua non è che può stare dato in piedi non è che può stare in un'altra parte si vanno a seguire vediamo la terza e la quarta malina ci sono più scuse quando sei qua io metterei la testa e chiudo gli occhi chiudo gli occhi chiudo gli occhi chi è deciso apri non ci si vanno come si vanno e vedete schiappa 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 che mi tirate su scava 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 vuoi farlo al contrario davide se passano di lice per la cespuglia lì da togliere dietro di te no? se passano là di dietro vogliono pulire lì